Ciao, sono Valerio Novara. Immaginate di dover andare al lavoro e dimenticare completamente tutto quello che avviene nella vostra vita privata. E una volta fuori, dopo aver lavorato le vostre 8-10 ore, insomma, in ufficio, immaginate di non ricordare nulla di quello che avete appena fatto. È quello di cui parla Scissione, Severance, una serie che si può trovare su Apple TV e che è stata candidata ai Golden Globe come miglior serie drammatica. Partiamo dal presupposto che è una serie che mi ha fatto ricordare moltissimo Black Mirror e quanto, insomma, la tecnologia e quel modo di esplorare la mente umana dal punto di vista tecnologico e quanto la tecnologia possa alienare l'essere umano, l'ho ritrovata molto in questa serie, Severance, in inglese. E, diciamo subito, si trova su Apple TV. Ricordo che si può sottoscrivere l'abbonamento a Apple TV anche senza avere l'iPhone o il Mac a casa. Insomma, è sufficiente registrarsi con un ID Apple, con la propria email, quindi avere un ID Apple per sottoscrivere l'abbonamento a Apple TV che può essere vista su tantissimi dispositivi, sia sullo smart TV, che sul cellulare, che sul computer. È una serie che è stata girata a New York, in particolare nel New Jersey, durante la pandemia. Arriverà una seconda stagione e, come dicevo, è stata candidata ai Golden Globe come miglior serie drammatica e è probabilmente una delle serie più belle del 2022. Un cast eccezionale, a partire, insomma, dal protagonista Adam Scott, anche lui candidato ai Golden Globe, insieme a John Turturro, che è un attore bravissimo, che ho imparato ad apprezzare in alcuni thriller polizieschi, ma, più di tutti, ma impressionato Patricia Arquette, che è un'attrice che, come un cavolo hanno fatto a non candidarla ai Golden Globe per una parte davvero eccezionale e davvero inquietante, anche perché, insomma, è l'antagonista di questa serie e colei che viene messa a capo della Lumon, che è questa grande azienda in cui si trovano a lavorare delle persone e in cui si pratica questa scissione. Cioè, si divide la vita privata dalla vita lavorativa. Ogni volta che i dipendenti entrano in questo grande edificio, in questa azienda, dimenticano totalmente quella che è la loro vita privata e quindi anche i loro rapporti con le persone e tutto quello che fanno fuori, mentre quando escono dal lavoro, dimenticano totalmente cosa fanno lì in ufficio e di che cosa si occupano e soprattutto chi sono i loro colleghi. Due parole sulla regia. La regia è stata affidata anche a Ben Stiller e questo mi ha molto colpito perché, insomma, Ben Stiller l'abbiamo imparato a conoscere per numerose commedie e film in cui ci ha fatto tantissimo ridere. Insomma, un attore veramente bravo, ma non avevo mai visto Ben Stiller dietro la macchina da presa e soprattutto su una serie thriller psicologica che esplora a fondo, insomma, l'alienazione del lavoro e quanto il capitalismo possa essere alienante per le persone, per l'operaio che non sa di che cosa si occupa. Questa serie è una piccola opera d'arte e tutto, insomma, parte da una sigla davvero ipnotica, l'ho definita, anche perché è stata realizzata da, pensate, un 3D artist tedesco a cui piace giocare molto con la modellazione dei corpi gommosi e con questa CGI che ti tiene incollato, anche se, insomma, dura abbastanza per essere una sigla, abbiamo imparato, insomma, che negli ultimi anni le sigle sono diventate sempre più brevi, insomma, e durano veramente poco. Questa sigla ti tiene incollato a guardarla. Io per tutte le puntate volevo vedere la sigla perché, insomma, ti trasporta poi in quella che è la psicologia della serie e tutto quello che attraversa il protagonista con gli altri personaggi che lavorano all'interno di questa azienda, la Lumon, e ti trasporta proprio all'interno di questa scissione tra lui che vive la sua vita privata, inconsapevole di quello che fa all'interno di quell'edificio e questo è il grande, insomma, il grande intriccio di questa serie è che a un certo punto l'azienda è come se provasse un esperimento sulle persone. Questo esperimento, criticato da, insomma, da tantissime persone all'esterno dell'azienda, si chiama scissione. Alcuni ci si sottopongono e si viene, insomma, catapultati all'interno di questa azienda e quindi quando si entra in ufficio e quindi quando si attraversa l'ascensore per andare al piano dove si lavora e quindi nel dipartimento in cui si lavora ci si dimentica completamente sia chi si è, perché poi, insomma, non si sa che cosa con chi si sta all'esterno, che cosa si fa, dove si vive, quindi si viene catapultati e si va lì solo per lavorare. L'obiettivo della Lumon è appunto quello di far produrre di più ai suoi dipendenti e quindi fargli dimenticare tutti i drammi e i patemi d'animo che hanno all'esterno. Per esempio Adam Scott, Mark, il protagonista, entra nella Lumon e si fa scendere proprio perché, a parte ha avuto un grave lutto, gli è morta la moglie e per otto ore al giorno decide di dimenticare completamente i problemi che ha all'esterno, quindi la doppia valenza, il doppio significato di questa serie è che da una parte c'è l'alienazione e quindi l'azienda che vuole far produrre al lavoratore senza fargli pensare ad altro e quindi facendolo concentrare solo sul lavoro, dall'altra c'è l'obiettivo del lavoratore di dire ok, io per otto ore stacco e non penso più a niente e quindi è una cosa un po' palliativa se vogliamo, solo che l'esperimento dell'azienda va a cozzare con le persone, comunque sia, che hanno una coscienza, un animo e all'interno della Lumon ci saranno alcune persone che cominceranno a farsi domande, cominceranno a instaurare dei rapporti perché poi l'essere umano è portato, anche se inconsapevole di tutto quello che ha all'esterno, è portato, vuoi o non vuoi, a creare dei rapporti anche di innamoramento, anche d'amore all'interno del luogo di lavoro e lo vedremo sia con la coppia John Turturro e altro attore importante della serie, Christopher Walken, che è veramente straordinario e sia insomma Adam Scott con Ellie, la ragazza che vediamo nella prima puntata e che si trova su questo tavolo, la prima puntata inizia a bomba con questa ragazza sul tavolo e una voce da un altoparlante che le chiede chi sei e insomma cerca di orientarla in posto di lavoro dove si è trovata all'improvviso come se fosse stata veramente catapultata in un esperimento drammatico e di clausura fa tantissimo anche la scenografia di questa serie, l'ho trovata veramente perturbante anche perché tutti questi corridoi, questi labirinti bianchi in cui non si sa mai che cosa ci può essere dietro l'angolo ed è uno dei punti forti della serie, il fatto che i protagonisti cerchino prima di tutto di orientarsi in un mega edificio, insomma questa azienda che è gigantesca ma che se da una parte non sanno mai cosa aspettarsi girando l'angolo pensando di saperlo invece insomma a certo punto trovano una stanza con un uomo che allatta delle capre o iniziano a scoprire e a esplorare gli altri dipartimenti anche se ci sono regole ferre in cui psicologicamente vengono insomma impauriti i protagonisti e i dipendenti perché non possono girare liberamente per la luma non devono sapere che cosa stanno realmente facendo inizialmente noi vediamo che loro lavorano a questi computer mettendo insieme dei numeri e cancellandoli, eliminandoli e c'è una frase che mi ha molto colpito e che insomma alla fine della serie dico subito che non viene spiegato che cosa fanno realmente mi sarebbe piaciuto però evidentemente ce lo diranno spero nelle prossime stagioni che cosa fanno realmente lì dentro ma c'è una frase in cui si chiede al protagonista pensa se stai uccidendo gente e nemmeno lo sai quindi insomma è una serie che esplora al massimo la psiche umana l'alienazione del lavoro e di come insomma l'azienda e il capitalismo voglia solo produttività e voglia far diventare i propri dipendenti degli autobie voi ditemi se l'avete vista e scrivetemi il vostro parere nei commenti qui sotto io vi invito a iscrivervi al nostro canale youtube cacchiazione e di mettere mi piace alla nostra pagina facebook e di seguirci su instagram per insomma per restare aggiornati su tutte le serie tv e i film più importanti del momento io vi saluto e insomma ci vediamo al prossimo video